Sono giovani, ma per loro i motori non hanno più segreti. Sono i nuovi operatori di auto-riparazione che hanno frequentato per tre anni un corso promosso da CNA e Decipar e che hanno ricevuto il diploma oggi pomeriggio alla presenza delle autorità. Sono 19 ragazzi che arrivano alla conclusione di un percorso, chi di due anni, chi di tre anni, quindi qui di duemila e ore, chi di tremila ore, dove maturano delle competenze di carattere di base, quindi italiano, matematica e quant'altro, e anche competenze di tipo molto tecnico nell'ambito dell'autoriparazione. Io sono sempre stato in mezzo alle macchine, poi anche i miei parenti, i miei zii stavano sempre sulle macchine, da lì è nato tutto e mi è piaciuto sempre salire sulle macchine. È stata una bella esperienza, ho avuto dei compagni magnifici, anche a scuola, e adesso vado avanti con un altro corso di mecatronica, l'elettroauto e lavoro di pomeriggi quando finisco il corso. Sono diplomi che presentano un'attività effettivamente molto concreta e poi oserei dire un'attività che forse non viene apprezzata da tutti, e quindi però comunque è molto richiesta.